caro andrea se domani non viene mi dispiace veramente tantissimo ti perdi qualcosa di unico quindi devi venire che si sta vicino una bella terrazza dove è il mio telefono signori vi presento Sofia oh che bello facciamo una foto Sofia eh sì questa c'è la manda mio fratello in diretta ok grazie vista com'è bella bella bello spaghettino una bella cosa perfetto da poi allora e quindi rimaneci organizzando la stice cosa mi fa pena per loro per loro si poverini compagni andrà più tardi allora per i ristoranti ci troviamo a ristorante queste sono le classiche entrate degli chef si era bamboloni la pizza fenomenal buonissimo è buonissimo è un bel perfetto freddo freddo ho preparato anche il ghiaccio come piace a voi senti è buonissimo questo che cos'è la pizzetta è una montanarina fritta con una salsa tonnata è tipo i bamboloni che ti piace veramente buono 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 allora questa qua è una bellissima tempura di gamberi con verdure buonissima vi consiglio di prenderla in fine condi l'abbiamo presa già ieri già ieri siamo venuti qui quindi abbiamo voluto di fare bissa e questo qui è dell'olio però porta anche le salsine varie questa è la tempura il problema sta nel fatto che il signore che vedete qui si ordina 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 ma non mangia niente quindi alla fine me lo mangio tutto io mi si è ordinato 20 maki sushi sashi tutto e lui poi si è ordinata la bella omar per due voilà allora vedete voi vedete il vino rosso so che non c'è azzecca vicino al pesce però abbiamo preferito un po' di lambosco allora un po' di sashimi tonno salmone confermo al 100% che i sashimi è qualcosa di straordinario buonissimo questo è questo i maki i maki questi qua sono i maki abbiamo con salmone e avocado tonno e avocado con un butterfish che è un pesce che cresce nel mare di Giappone bello quello cimi di ombrina cimi di vino maionese online e una zafferano in agroluce ad accompagnare il tutto bello questo è dell'aracost questa è bella mi piace beh basta sulla salmone ma tu usa la forchetta però c'è anche la forchetta questa è vero ok io uso le bacchette ci sta un po' di soia certo grazie allora Gianluca questa soglia tu vai a morire questo è 60 allora sai 60 la cupea aspetta mangia tu mi piace sono fumando adoro allora ragazzi un bello assicione come vedete con la pasta fresca è eccezionale però il problema è trovare il coraggio di mangiarlo dopo tutta questa roba ci siamo abbiamo mangiato tenuta però io faccio una bella forchetta la�que di pasta guardate che perde il pomodorino mmmmmm e poi mangio mai un prodotto solo coltello forse questo ti puoi dare un coltello cala nicolazzo di dio se vieni qua c'è giapponese stai aspettando un po' perchè succedono i macchi ma la calla ragazzi cottura astice perfetta cottura della pasta una pasta fatta in casa non è una pasta comprata come dice uno spaghetto alla chitarra cottura in tutti e due casi perfetta è un peccato che non ce la faccio più però vale la pena di venire qua e mangiare allora babà con sorbetta al limone cramblon molto buono una quantità buona perchè è piccolino grazie a voi grazie a voi grazie a voi